Si chiama Jake Washer, è un giovane studente dell'Università di Hartford del Connecticut e il ragazzo in questione avrebbe accoltellato due compagni di studi durante le prove di uno spettacolo teatrale. Quindi è stato arrestato, adesso sarebbe accusato di dettato omicidio. I studenti accoltellati sarebbero ricoverati ancora in ospedali in gravi condizioni. La teatro della vicenda, ripeto che il Connecticut negli Stati Uniti d'America, dopo la funga a piedi dal campus, Jake, si è arreso circa due ore dopo quando è stato trovato la polizia in una foresta ubicata a un chilometro di distanza. Le vittime hanno riportato diverse ferite gravi alla schiena ma anche al torace, uno pensate che è ricoverato in terapia intensiva. Sarebbe stato arrestato, attualmente si troverebbe in caccia. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, datemi una vostra opinione di quello che vi ho prospettato in America, molto spesso avvengono casi come questi dove si perde miseramente la vita.